Ciao a tutti ragazzi io sono Kendal, nonché l'imperatore migliore di Minecraft e quest'oggi mi trovo nel canale di Carli Io sono Carli e questa ovviamente è Cimio Sono qua perché questa babbea ha usato sfidarmi nel parkour Ebbene ho creato una mappa solo per lui e vediamo con quante morti riuscirai a cavartela Zero No voglio vedere Zero morti Proviamo, vediamo Parto già subito col dire che se dovessi morire è perché non mi trovo perché non è il mio computer Questo è il computer di Carli Sì sicuro Ok ecco vedi già ho sbagliato ho fatto uno screenshot per sbaglio Stessa tastiera, stesso mouse No non è vero Tappetino uguale La sedia è la sua Fob diverso Fob 80 Ok start Quindi questa è la mappa che hai fatto Belle le stelline Esatto Anzi no non farti prima un giro attorno Guardalo solo da lontano Che c'è scritto là? Ciao Ah Ma potevi farlo dritto perché hai fatto così? Perché andava di farlo così Ok parkour sulle torte Devo dire che non credo di averlo mai fatto Devi sapere che l'ho suddiviso in temi C'è il tema della torta, il tema museo, il tema bordo E l'ho finito già quello della torta? Eh sì Ah bene Carli qua No i paletti Voglio vederti Uh Non ti preoccupare Carli Sereno Sereno Con chi pensi di avere a che fare Vediamo dai vediamo quante volte riesci a fare L'hai testata vero? L'ho testata È tutta fattibile Suppongo di sì Come suppongo? Sì sì è fattibile È fattibile Oh Ah no è vero Aspetta Dove cavolo mi hai portato? Ai 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 Male 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 Già che non c'era lo spawn point Vabbè dai Meno 5 punti Siamo a 95 punti eh Si partiva da 100 Ma perché questa è la mia mappa Creative Bravo Seconda morte eh Bravo Ah perché è diverso Non mi trovo Ma certo è diverso Non è il mio computer Ma certo è tutto diverso Ma certo Questa la tagliamo No lascia Allora Scherzi a parte Il tuo schermo è più piccolo del mio Ma sì ma è sicuramente per Oltre ad essere anche più lontano Di 5 centimetri Ma certo Guarda Vabbè Vabbè Diciamo che Oh sei stato tu a dirmi Falla ben difficile eh Io l'ho fatta difficile Facciamo così Spostati Dammi i miei spazi Vattene No no l'hai visto L'hanno visto tutti C'hai i dpi a 2000 Sì sì dai va bene Il tappetino del mouse è sporco Ma certo Tutta colpa mia Uno Ok Dai Questo è facile E due Bravo E tre Sì Questo non è fattibile Chi ti ha detto Tu sei sicura al 100% L'hai testato Eh sì Fidiamoci No non è fattibile Carli Va bene va bene Sarà l'unico salto non fattibile Quindi non è fattibile Non lo so A me sembra fattibile Guardarlo così Come fai a fare Questa distanza Con quello che c'è dietro Eh vedi che è fattibile Vedi che è fattibile Va bene Ok Quindi fino ad ora Zero morti Ma che zero morti Zero morti Sarebbe cosa Dieci morti circa 12 C'hai lo shift Bloccato Ma certo Te lo giuro Si è bloccato lo shift Ragazzi Ma è successo In quattro anni Che usa questa tastiera C'hai la tastiera Comunque veramente C'hai il tasso qua Che si blocca C'hai i tasti duri Te lo giuro Fidati di me Perché non si stacca Oh C'hai il tasto shift Sporco C'è davvero Mi stai smontando La tastiera Pur di non ammettere Che non riesci a fare Questo parkour Ma io non riesco a fare come Ma certo Vai allora Forza Ok Poche scuse Guarda Adesso è fluido Guarda bene il dito Pronta Ragazzi Hai cambiato tutto Tutto E infatti Vedi Zero problemi Come dovrei arrivarci Ok forse Ma non l'avevi testata No no Aspetta Si è tolto un filoncino Di sotto Una barriera Ah no Ah È vero scusami L'ho fatto giorni fa Non la ricordavo Ok quindi così 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 Esatto Facile Vai Uzza 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 Cos'è C'è un bloc invisibile Sì Ah Ma aspetta E ora E ora Guardati attorno Ok Totalmente a caso Eh si ma dove bisogna andare Di qua Poi così Poi così No sto sbagliando Oh qua c'è un muro Ebbene Abbiamo creato un labirinto invisibile E con abbiamo Come un labirinto Io e Cimia abbiamo creato un labirinto invisibile E io come cavolo faccio a capire dove devo andare Ma non era una mappa parkour È semplice È semplice C'è qualche gioco interattivo Di fatto intanto Giochi intelligenti per bambini deficienti Ok di qua no Secondo me ti conviene Anziché stare in adventure Di qua si In survival Ma dai Io non so in survival Perché non riesco a vedere lo stesso Perché forse Ah Ok No E dove bisogna andare Guarda a destra Dovrebbe essere No allora no È la strada qua a sinistra Dove c'è il muro Quindi ho sbagliato strada totalmente Sì esatto Subito qua a destra Ma non mi devi aiutare Ok Sono o non sono l'imperatore Ce la faccio da solo Bravo Lo so Non serve che mi dici bravo Guarda Easy Sali su Sì E ora slime sicuro E ora slime Wazung Bravo Bravissimo E come cavolo dovrei farlo No 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 Non mi prendi in giro Quello si può fare Da capo Forza Sei tutto sporco Coraggio È notte Ok se vuoi tippati No no che tippati No Lo rifai tutto Stai scherzando Pazzoide Sotto al pontos Vai Uno Vabbè mi tippo Ah devo salire sulla scaletta Vai E qua entri nel tema museo Ok Ho fatto tutti i blocchi Con i miei quadri Bello Carli Scrivete nei commenti Zero 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 Dovete scrivere solo zero morti Ragazzi Chi alla fine del video Riesce a scrivere Quante morti sono state fatte Pingo Vabbè ma il problema è che Non è fatta da un professionista Questa mappa Ma sì Io sono una professionista E quindi ci sono salti Che non si possono fare Non è vero Tipo questo Letteralmente Si possono fare tutti Tutti Gli ho fatti con amore Ci sono anche dei vari Non è che se li hai fatti con amore Allora sono fattibili eh Ma certo Gli ho testati Ci ho messo due ore Per fare questa mappa parkour Carli In realtà Io sto cadendo di proposito Perché se no il video dura poco Qua Come è possibile Attento Bloccos invisibili Io mi metterei in survival Provi A me piace stare in avventura Le mappe si fanno in avventura Un uomo invitato Mezzo salvato Io te l'avevo detto Guarda guarda Qua Vai bravo Adesso qua Hai Carli non mi posso grappare Sui quadri Lo sai vero C'è qualche blocco invisibile No 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 Salta sui quadri Ma qua c'è un blocco invisibile No non c'è Cioè vabbè sotto i tuoi piedi Cioè ma Salta sui quadri Fidati E tieni premuta barra spazzatrice Salta Salta E miele E c'è una scalettina lì Ok la vedo Vai Bravo Easy Boom Non ci credo Sì Devo farlo così Vedi io non ti posso dire nulla Vedi Vedi Ok questo è facile Bravo E questo come si fa C'è un blocco sulla testa Senza saltare Uff Esatto Troppo facile per me Zero morti Ma certo imperatore Ma certo Zero death Zero Ok Bagliaccia Vai Carli Veramente Io ho sfruttato il trucco che avete detto tu la volta Vuoi rubare a casa dei ladri No Com'è possibile Non dovevo cadere lì No 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 ma certo Assolutamente Guarda che ti si bloccano i tasti comunque Veramente Hai bisogno di una nuova tastiera Carli È andata Posso comprarmi quelle tipo crimi Che le sono lasciate No perché poi fai casino nei video Vai Ok Vuzum Vuzum Bizzum Ok come ho fatto a cadere Di nuovo Di nuovo Cosa rini che tu non saresti capace Io sì Gli ho fatti tutti Eh immagino Sì ci ho messo tanto ma li ho fatti tutti In creative No Non ti scherzi a parte c'è qualcosa di diverso nel tuo pc Non capisco cosa ma È meno smooth Meno Smooth Rispetto al mio No che c'è qualcosa che mi blocca Non c'è nulla C'è qualcosa che non mi permette di saltare Carli Non c'è nulla Non c'è nulla eh Non c'è nulla Raga non c'è nulla È un errore Una svista Togli Mi devi annullare tutte le morti No no Solo una Anzi vabbè Solo tre morti Eh vedi allora Non è colpa mia No perché anche questo blocca Ah va bene Togli anche quello Quante scuse Ma non sono scuse Quante scuse In salto non si può fare Quante scuse Guarda ora scommettiamo che non lo sbaglio Cosa c'è Fermo Perché Sì dai Tra l'altro i blocchi invisibili Ma no me lo fa fare Magari quello a 400 metri di distanza Anche questo blocca Perché li hai messi Perché se no tu baravi La volta scorsa Io non baro Guarda scommettiamo che adesso che posso saltare liberamente Ce la faccio Sei pronta Diciottesimo tentativo Eh ma perché c'erano dei blocchi sulla testa E qua pure ci sono vero No Posso andare Vedi che non sbaglio Se non mi metti in basso Qua c'è un blocco invisibile Carly Ok va bene Quello è un errore Una svista Ho esagerato che cosa Io non ce la posso fare Ho esagerato Guarda guarda sulla testa Ho esagerato solo in questo punto Ma ti assicuro che dalle altre parti Sono tutti ok Ok Easy Bravo Bravo Se sbaglio questo Puoi comunque ammettere Che questo parkour Nonostante questo piccolo errore Comunque sia fatto bene Ed è abbastanza complicato È complicato Certo che è complicato Ma perché l'hai fatto In che modo Dicevo certo che è complicato Perché sai che L'avrebbe giocato un pro E quindi l'hai fatto estremamente È più complicato del normale Verissimo Allora Dove Giù Giù dove Lì Slime Slime Quello Sì Ci arrivo Ci arrivi Sei sicura È possibile Ci proviamo Per pochissimo Cioè è tutto fatto al millimetro Per farti sclerare Se sbagli di un millimetro Non ce la puoi fare più Ma è la parte migliore Sì tanto lo faccio io Eh ma tanto tu sei pronto Ti giuro che sta avendo più difficoltà Su sta mappa Che su tante altre mappe Che ho già fatto Like Cimmia è stata qui Kendall puzza di cimmia No non c'è scritto di cimmia Da cimmia Ah ok Devi leggerli man mano Che sali Oh questi Sono riuscita a farli tutti In un unico colpo Devo lanciare qualcosa No non mi lanciare nulla Vai rifallo Un bel respiro profondo Allarga le tue narici Trattieni respiro Rilascia Maledizione Mannaggia a me Mannaggia a quando faccio video con te Oh però almeno in questo Sei diventato bravissimo Eh grazie Ormai Dopo averlo fatto Sette miglia Settecentocinquantasette volte Eh Ah ah Piano 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 Bravo Eh grazie Ok Ok Sono tutti fattibili Vero Carli? Sì Tutti Tutti Li hai testati a uno Uno Testati tutti Ok Forse hai ragione Scemo Hai sei anni Ok E vai Ottimo Sulle teste? Sulle teste Uts Dai questi sono facili Sì Se tutti a distanza Facile Non mi ha cliccato Lo sprint Ma sì è lo sprint È sempre Posso prendere la mia tastiera? No Fallo quella mia È uguale identica alla tua No I tuoi tasti sono Vieni Vieni che non salta Basta Fermo E uno E due Io insisto che comunque la tua tastiera C'è qualcosa che non va Tre Quattro Ecco perché sei scarsa nei giochi Ma che dici? No Godo Go Così impari Questo è il karma che ti punisce Cattivo Cattivo Sto avvenendo l'orticaria Non ce la faccio più Ti sto vedendo dopo quello che hai detto Siamo qua da un'ora Basta ormai questi me li bagno Vai Me la faccio tutti in speedrun Vai vai Stai scherzando? No Cioè tu mi hai messo Praticamente è un parkour di paletti grandi così È la parte migliore Vai Blocchi non ne ho visti fino ad ora Ma non è vero Ah Vai Beh questi non li sbaglio No È fattibile È fattibile Sto prendendo le misure Vai vai prendi le misure Ok Bravo Ok Semplici questi fatti così No questo bisogna fare doppio salto Adesso arrivano quelli difficili Altri paletti I pannelli di vetro arancioni Così li confondi con la lava Però la buona notizia è che sei quasi alla fine Ora no Saremo già 30 morti circa? Forse 27 Dai dai Forse su questi sono stata un po' cattiva Devo ammettere Un po'? C'è tutto il parkour È di blocchi grandi Un millimetro Guarda che Per quelli che diranno nei commenti Ma Kendall Manudelli bravo nel parkour Fatelo voi Fatelo voi un parkour così Guardate che è difficile Ok Ok Va no Ma ancora più sottili i blocchi Ora pure le candele La prossima volta che ci metti Uno sputo Accendi l'aria condizionata che va caldo È già acceso È già acceso Eh allora Sono io solo che ho caldo? Dai ti do il permesso di Skippare tutta questa Oh grazie a Dio Vai vai Questo è un salto da uno Sì Ok Ok Sul cactus è easy Ora No Perché ci hai messo la cordicella? Eh Per non farlo crescere Dai è semplice È semplice Bravo Adesso Non lo so Ho scritto cimbia Non l'ho scritto io Ragazzi Per il bene di tutti noi Ci fermiamo qua È stata tosta Anzi aspetta Che voto gli dai? Io ora prendo questo mouse Dai no no Che voto gli dai? Che voto gli dai? Difficoltà Estetica? Quattro Ma come quattro? Quattro come difficoltà Quattro come estetica Quattro come... Ma non è vero Ragazzi È morto almeno 40 volte Scrivetelo nei commenti Sono morto zero volte Mai Mai morto Ciao Ciao